La partita noi sappiamo che è la partita più difficile per affrontare e noi abbiamo preparato in modo giusto, abbiamo seguito il consiglio del Miste per affrontare questa squadra. Sono molto contento per questa vittoria che ci serviva tanto per il nostro campionato. Come ti stai trovando al Cosenza? Bene, mi trovo molto bene, con i miei compagni già avevo avuto il Miste e altri giocatori che conoscevo già nei tempi del mio carino. Trovare il gol subito è stato importante e poi come l'avete gestita al meglio? Questi tipi di partite ci serve subito l'impatto da primo minuto, sappiamo che la squadra è forte e è in situazioni difficili. Quindi quando abbiamo subito subito il gol non abbiamo mai mollato, abbiamo pensato di fare la prossima gol possibile. Nell'ultima trasferta avevi fatto un assist, oggi una prova solida, sempre sul pezzo, come ti sei sentito in campo? Bene, perché noi pensiamo partita per partita e lavoriamo durante la settimana per affrontare le partite. Altri tuoi gol di Gennaro, come giudichi i tuoi compagni squadra? Il nostro bombe, sono contento per lui che tira sulla squadra, per la macchina del gol che ti aiuta tanto alla squadra.